La ballerina Marisol Castellanos, si sbilancia sul suo amato Petit, prima della semifinale di Amici 23, a primo impatto ho pensato che eri molto simpatico. Amici 23, Marisol a cuore aperto. Ecco cosa ho pensato la prima volta che ho visto Petit, video. Fervono i preparativi per la semifinale di Amici. Che andrà in onda domenica 12 maggio in prima serata su Canale 5 e che decreterà i finalisti della ventitresima edizione del talent show di Maria De Filippi. Nell'attesa, i ragazzi ancora in gara al serale si sono raccontati e lasciati andare a delle confessioni inedite. Le dolci parole d'amore di Marisol su Petit. Nel daytime di ieri di Amici 23, i semifinalisti sono stati convocati in studio e riuniti intorno a un tavolo chiamato Il Tavolo della Verità e del Talento. Tra balli, esibizioni di canto e dichiarazioni d'amore, i ragazzi ancora in gara al serale si sono divertiti e lasciati andare a delle confessioni inedite. Chiamata in causa, la ballerina Marisol Castellanos ha parlato della sua storia d'amore con Petit svelando cosa ha pensato la prima volta che ha visto il cantante. La prima volta che l'ho visto è stato in hotel. Non ho pensato perché non me lo ricordavo. Poi quando l'ho visto ai casting ho pensato, ma forse lui era anche in hotel. Poi ci siamo conosciuti qua. Ma a primo impatto ho pensato che eri molto, molto simpatico, mi facevi tanto, tanto ridere e ha confessato emozionata Marisol. Successivamente, la produzione di Amici ha affidato a Petit il compito di fare una serenata alla sua amata ballerina, la quale dopo l'esibizione l'ha baciato ringraziandolo. A Holden, invece, è stato chiesto di elencare pregi e difetti di ogni suo compagno. Dustin ottimo ballerino e ottima persona. Dire un difetto è difficile. Petit mi piace che prende la vita con leggerenza. Mi piace il suo carattere, difetti non li so. Marisol ottima persona e ballerina, difetti non li dico. Mi da ammiro la tua determinazione. Saretta ti ammiro tanto, per l'età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio, l'evoluzione che hai avuto qui dentro. Se l'allievo di Rudy Zerbi ha fatto delle dolci dediche ai suoi compagni, Sara ha rivelato, se dovessi svegliarmi su un'isola deserta vorrei con me Marisol perché siamo state sempre legate. La semifinale di Amici 23 slitta a domenica 12 maggio su Canale 5. Ricordiamo che la semifinale della ventitreesima edizione di Amici, andrà in onda domenica 12 maggio 2024, in prima serata su Canale 5. Un cambio di programmazione scelto per evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest. A rappresentare l'Italia, ci sarà la cantautrice ed ex allieva del talent show di Maria De Filippi, Angelina Mango.